DICOTE Caro diario, ricordi il principe Ali? Beh, indovina un po'? Sta passando la settimana qui a Parigi e ha chiesto a Rose di andare a prendere un gelato con lui e Dandrè. Andiamo prima che la mia segretaria mi trovi. Avresti dovuto vedere la sua faccia quando ce l'ha detto. Su il serio, quanto è fortunata? Immagini se Adrione mi chiedesse di andare d'Andrè, il gelataio degli innamorati. Penso che sverrei. Ma la verità è che, diversamente da me, Rose può dire al ragazzo che le piace che cosa prova E ci tenevo a dirle che è la persona più buona che io abbia mai conosciuto Davvero? Potrei farmi consigliare da lei un modo per parlare ad Adrienne Ci sa proprio fare con le parole Scrive i testi per i Kitty Section La band dei nostri amici E anche la cantante E di lei si può dire che... Vi serviranno questi, credetemi È particolare Ci sono! Forse Rose potrebbe aiutarmi a scrivere il testo per una canzone super romantica da far cantare Kitty Section per Adrienne Così finalmente capirebbe che cosa provo per lui e si innamorerebbe polemente di me E potremmo avere tre bambini, una grande casa, un cane e un criceto di nome Guarda che ora è! Devo andare a cercarla e iniziare immediatamente Ciao per ora, caro diario!